La vostra vita vi porta ad avere scambi con persone lontane dal cammino spirituale o che almeno ai vostri occhi sembrano lontane, ma la vostra vita vi porta pure a conoscervi e a conoscere l'essenza di ciò che vive in voi, proprio attraverso quegli incontri con quelle persone e dunque, da chi non vi capisce, da chi non è come voi, potrete imparare da chi è diverso da voi a sentire dentro di voi nuove vibrazioni, nuove energie, nuove non perché siano appena nate, ma semplicemente perché per voi sono nuove in quanto non le avete mai guardate e dunque non vi sono mai arrivate, ma il fatto che non vi siano arrivate non significa che siano negative, tutto ciò che vi circonda è positivo. Imparate questo come prima regola della vostra esistenza e forse anche come unica, perché l'amore divino si trova in tutto ciò che vi circonda e nulla ne è privo. Continua.